mannaggia mannaggia no 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 mannaggia mannaggia ma non mi fa che sembro stesso discorso e napolicaia ricapii che non posso dire cose fuori posto che è sta luce merda ma rutto cazzo mannaggia allora io voglio sapere o spina che micchia fai che cazzo fai che cazzo fai che questa luce di merda che cazzo fai o spina ma ti rendi conto ma stai la può fa tutto cosa può fa può fa tutte cose al professe trovi immobile immobile addosso no ti trovi immobile addosso ti trovi ecco questo è il final fattore la penna ti trovi immobile addosso ti trovi tu hai tu l'inducesse che la palla l'inducesse fai una finta fai una cosa l'inducesse scorni mannaggia cornuta mannaggia ha già perdere una partita così a me a perdere una partita così a me a perdere a hop che si vede quando propone quattro quattro gol in due partite le abbiamo fatti tutti noi tutti noi le abbiamo fatti mannaggia ma come se fa ma come se fa se fa male meretta tra la spina e ci fa questo regalo ci fa questo regalo ma una cosa ridicola proprio ridicola e fabio caressa chi cazzo era prima prima della partita dice eh però hanno fatto entrare lo spina se lo spina a posto di meretta e lui comunque possono sfruttare questo vantaggio che molto bravo con i piedi ha già visto strunz strunz che cosa è bravo con i piedi che cosa che fa per e per ha fatto un errore che nessuno si deve permettere nessun portiere sa da permettere di farsi errore e poi non solo non solo lo spina sbaglia immobile tira io io quando spina sbaglia dico maronna mi maronna mi chissà mi fanno venire cose chissà ma un attimo di tregua quando spina sbaglia io dico ma che cazzo fa chissà tutto scemo poi immobile tira vedi a di lorenzo che sta là a città mamma mia se ne senti filato di lorenzo veniva va avrei la palla tra la sua stessa mannaggia cosa mannaggia come ha fatto tra si che la palla stava di lorenzo là cioè ma almeno di lorenzo ce l'ho pure ha fatto calcio ce l'ho pure ha fatto una fanta calcio ma ma una ricetta andai a sto matti santa pure una fanta calcio ce l'ho di lorenzo ci rendiamo conto guarda che lorenzo ci rendiamo conto ma io siamo troppo 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 c'è l'analisi della partita ma come faccio come faccio l'analisi della partita come faccio se succedono queste cose come faccio che poi il primo tempo un po' così un po' sbagliato la partita era noiosa il secondo tempo si è accesa bello ma Napoli ci stanno mettendo i palla in capa e palla in capa che si canna a vincere per il regale per il regale per il regale poi quegli haters di merda che commentano sotto i miei video che noi siamo che noi siamo scarsi che noi siamo scarsi e non siamo sfortunati e mi ha visto che non siamo sfortunati guarda mi ha visto proprio che abbiamo palla e poi siamo scarsi che cosa? siamo scarsi che cosa? Bucchi in aria! Mannaggia miseria! siamo scarsi per cosa? che ho spina fai strunzata che ci potete fare noi e che ci può fare Gattusa e che ci può fare Inzign che viene fischiata sempre che ci può fare che poi Inzign ha avuto anche due occasioni esagerate che se le procurate con il suo talento se le procurate! Mannaggia miseria! Mannaggia miseria!